ciao ragazzi questa sera un piccolo video un piccolo video però che è molto importante perché voglio parlare di nuovo del cono d'ombra del cono d'ombra di trasduttori ma soprattutto come si devono vedere e interpretare le immagini sul nostro ecoscandaglio mi sono reso conto che in tutti questi video che ho fatto fino ad oggi alla fine non vi ho mai fatto vedere proprio la prova pratica di quello che vedete sullo schermo che secondo me sta proprio alla base del riuscire a capire i nostri strumenti probabilmente dovrete guardarvi questo video più volte alla fine non è lungo ma voglio che capiate bene cosa vedete sullo schermo e cosa c'è sotto nel mare in quel momento perché c'è tantissima confusione io vedo sui social foto di screenshot dove ci sono i pesci dove c'è la secca dove c'è la buca ma è veramente quello che voi pensate cioè quella è la rappresentazione di quello che sta sul fondo ma non la dovete immaginare in un modo come una foto come una sezione adesso vi farò vedere proprio con un esempio grafico di cosa vedete e come viene rappresentato sullo schermo e il risultato finale qual è vedrete che ci sono tante cose che sicuramente non avete valutato una cosa vi chiedo iscrivetevi al canale e lasciate un commento positivo negativo scrivetemi per favore se avete capito non l'avete capito se lo devo spiegare di nuovo se devo fare altri esempi come questo perché per me è molto importante avere un feedback da parte vostra questo è un video altrettanto importante per me perché sta proprio alla base di riuscire a capire come funziona il coscandaglio ma non perdiamo altro tempo iniziamo a vedere questi grafici eccoci qua ragazzi questa è la prima immagine abbiamo la nostra barca qua in alto abbiamo un cono d'ombra il cono d'ombra illumina una porzione di fondo voi dovreste già sapere che questi sono i nostri angoli ciechi e qua alla destra questa è la vera novità rispetto le altre volte abbiamo l'immagine dell'ecoscandaglio ho fatto un po un montaggio ho cercato delle immagini che potrebbero andar bene ovviamente non sarà precisissimo come vedete qui sta andando un po in salita in realtà qua il fondo è piatto ma non è importante io voglio farvi capire questo pesce questa roccia come viene visualizzata sul schermo del vostro ecoscandaglio un'altra cosa importante la barca non è ferma la barca si sta muovendo sta andando in questa direzione a una certa velocità in questo momento non è importante non vi ho neanche messo delle misure di profondità neppure quelle sono importanti andiamo a vedere cosa succede mentre la barca passa come va a disegnare sull'ecoscandaglio e come si trovano nella realtà gli elementi sul fondo e nella colonna d'acqua adesso scopriremo delle cose importanti la seconda immagine allora è la stessa di quella prima dire il vero ma vedete le due frecce rosse vi indicano il punto che viene disegnato sul nostro ecoscandaglio esattamente dove si trova e sembra una cosa banale in questo momento dalle immagini che vengono dopo capirete quanto è importante capire questa cosa guardate un po dove il pesce è qui è fuori dalla portata del nostro ecoscandaglio e la misura che noi leggiamo sull'ecoscandaglio è esattamente la verticale che sta sotto il trasduttore sotto la barca che corrisponde al punto più a destra del nostro ecoscandaglio andiamo avanti ora la barca si è spostata un po più avanti il punto che viene rappresentato sul nostro ecoscandaglio è sempre qui è questo rosso è il punto più vicino al nostro trasduttore ma il pesce comincia a essere battuto anche se si trova di lato un po spostato è un po spostato rispetto alla verticale della barca ma l'ecoscandaglio ce lo mette sulla stessa altezza nello stesso punto qui già cominciate a capire che le cose allora un po si complicano quello che vediamo sul fondo non corrisponde sempre a quello che vediamo sopra ma andiamo più avanti così riuscirete ancora a capire meglio questo questo discorso la barca si è spostata ancora avanti il pesce ce l'abbiamo in centro cono ecco che il mark comincia a essere ben visualizzato sul nostro schermo in questo momento si abbiamo il fondo che corrisponde alla alla posizione giusta del pesce e ci abbiamo uno sopra l'altro prima erano spostati se ve lo ricordate la barca va ancora avanti cosa succede il nostro pesce ha finito disegnare l'arco guardate un po la fine del pesce corrisponde alla stessa distanza del trasduttore rispetto alla distanza minima del trasduttore rispetto al fondo e per questo motivo il target sembra che tocchi il fondo ma come vedete dall'immagine il pesce non si è spostato l'ho lasciato sempre fermo lì non è che il pesce ha fatto un movimento il pesce è rimasto fermo e la barca che si è mossa ovviamente vale al discorso anche il contrario se io avessi tenuto la barca ferma e il pesce in movimento avrei avuto lo stesso tipo di disegno ma la cosa interessante da vedere adesso è che questo punto rosso che corrisponde al fondo che stiamo guardando in realtà si trova spostato rispetto al pesce quindi questo mark è in una posizione diversa rispetto il fondo che sta sotto la barca è lontano può essere lontano anche 7 8 10 metri non esattamente sul fondo lì dove lo sta segnando questa è una cosa che bisogna capire bene quando noi abbiamo un disegno di un target non è detto che quel disegno coincida con il fondo e questo diventa fondamentale nel momento in cui noi andiamo ad analizzare per esempio o andiamo a mettere un mark sul nostro ecoscandaglio mettere il mark sull'ecoscandaglio in questo punto o in questo o in vuol dire metterlo in tre posizioni diverse rispetto al pesce il pesce è staccato del fondo quindi segue una logica diversa sul trasduttore il punto della banda rossa questo qui è sempre il punto più vicino al trasduttore quindi alla fine in questo fondo piatto rimarrà sempre il punto sotto la barca ma il pesce ha delle posizioni diverse all'interno del cono e tutte le posizioni che abbiamo fatto sono disegnate da questo da questa forma da questo mark cominciate a capire perché i pesci possono avere dei mark molto strani molto lunghi ma non sono pesci lunghi sono stati tanto tempo all'interno del cono ma non sappiamo dove sono stati all'interno del cono potevano essere davanti dietro a destra a sinistra in questo esempio grafico io ho fatto finta che la barca si muova costante e il pesce stia fermo però dopo nella realtà diventa ancora più complicato ma adesso andiamo a vedere cosa succede mentre la barca si muove ancora avanti che è ancora più interessante eccoci qua in questo momento come vedete qui ho disegnato un punto rosso sopra c'è un mark lasciatelo perdere era l'immagine dell'ecoscandaglio che più mi andava bene per farvi questi disegni ovviamente non ho disegnato nessun pesce qui visibile avrei dovuto disegnare un pesciolino anche qua sopra per farlo vedere ma non era questo il mio scopo il mio interesse volevo farvi vedere che questo punto del fondo viene disegnato dall'ecoscandaglio come somma di due punti che corrisponde a questo e a questo perché tutti e due entrambi sono alla stessa distanza del trasduttore quindi tutti e due vengono disegnati e ce li abbiamo qui una somma mentre il pesce questo mark bello grande che abbiamo visto prima è completamente fuori è lontano ora ci stiamo avvicinando alla secca vedete questo segno questi sono il la risposta dei lobi laterali del nostro trasduttore i nostri trasduttori soprattutto quelli diciamo tipo la b 45 la p 66 quelli che hanno un cono molto largo hanno anche dei coni laterali che sono abbastanza forti che fanno entrare nell'ecoscandaglio anche le cose che che sono un po più lontane quindi questa immagine non è una mangianza come tanti potrebbero pensare a prima vista ma è l'immagine della roccia qui c'è ancora una parte di segnale che arriva che viene riflessa e viene disegnata ovviamente questo segnale è più in alto stiamo parlando di questa zona qua e viene rappresentata sul nostro ecoscandaglio sopra andiamo ancora avanti ora la barca sta intercettando la secca vedete questo punto qua non lo prendo più e prendo solo questo cosa succede comincio a disegnare questa sagoma perché perché la barca sta entrando prima prendeva questo punto dopo da questo punto in su mi comincia a disegnare la sagoma quando sono in questa situazione ok io non posso più vedere i pesci che stanno qui sotto e questo pesce qui che quello di prima ce l'ho sempre disegnato qui sull'eco ma non c'entra niente con i pesci che potrebbero eventualmente stare sotto la secca non c'entra nulla questo non è un pesce che sta alla base della secca come potete vedere è spostato ma anche di molto i pesci che stanno alla base della secca eventualmente potrebbero essere questi segni qui ma non questo questo è un pesce che sta lontano andiamo avanti continuiamo a salire come vedete la zona d'ombra diventa sempre più grande l'eco scandaglio mi segna effettivamente una risalita ma tutto quello che sta qui sotto c'è dal segno rosso in giù mettiamo che la barca qui ci siano 20 metri tutta questa zona qua che arriva a 28 30 metri si trova qui e io qui pesci non li vedo non non si possono vedere questo marchi che abbiamo visto prima l'abbiamo visto perché eravamo sul fondo piatto non vicini alla secca se la barca continua andare avanti eccoci qua continua a salire la secca sono spariti ovviamente tutti i target se qui io adesso disegnarsi e qua disegnarsi dieci pesci qui in questa zona questi pesci finiscono qui dentro dobbiamo ricordarci che questo punto che corrisponde a questo è il punto più vicino alla sonda del nostro pavimento del nostro fondo tutto quello che sta sotto non si vede quindi quando la barca è qui e qui ci sono i pesci e noi adesso stiamo con la barca fermi questi pesci qua non li vedete è impossibile chiaro ok andiamo avanti siamo arrivati sul culmine della secca la secca l'abbiamo disegnata così ed è questa e fin qua è tutto chiaro questo è il pesce che stava qua laggiù in fondo anche questo è chiaro se qui in questo momento ci sono altri pesci sicuramente non li vediamo questo era un piccolo video per farvi capire meglio come funziona il cono d'ombra e soprattutto la rappresentazione grafica dei nostri target e di tutte le strutture che sono sul fondo spero di essere stato chiaro se non l'avete capito bene riguardatelo dall'inizio perché è fondamentale fondamentale veramente fondamentale che voi capiate quando guardate uno screenshot cosa state guardando vedere solo i target o vedere le salite le discese del fondo vi posso assicurare che non è sufficiente lasciatemi un commento ci tengo veramente tanto alla prossima ciao ragazzi